Bersaglio a terra! Cazzo, sono tornati! Attenzione! Chiheriti forte, Mezzog! Thank you, Roy! Tell you, understand? Pagliari! Pagliari! Ategati! Pagliari! Yuppo! 19, 18, 4, 6, 21, 17, 20, 29, 19, 16, 24, 17, 24, 17, 25, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30. 24, 17, 34, 35, 35, 35... Dragovic, Kravchenko... Meso, da quanto tempo? Dobbiamo recuperare. Dragovic ti ha catturato di nuovo. La tua unità è sparita nel Laos, probabilmente morta. Il tuo contatto, Adzon, ha dovuto continuare a cercare la Nova 6 senza di te. È andato sul monte Yavantao, in quel maledetto bunker sovietico. Esatto, un complesso militare pienamente funzionante, sepolto tra i monti Urali. È lì che Adzon è stato contattato da Friedrich Stein, lo scienziato nazista che ha sviluppato la prima Nova 6 per Dragovic. È lì che Adzon ha saputo dei numeri, della trasmissione. Io ero lì, Meso, ci sono stato nel complesso di Yavantao. Oh cielo, i numeri esistono? Sono sempre esistiti, Meso. Non è un gioco. Non collaboro, non è l'attività. È la stazione radio che mi trasmette. nosi spieghi�도 anche il mio spiegelatore. Nostia si 2 risvelli di рисplano che si se spediamo alla prossima. Esatto, le po d'accordo, si avrà un'ottima, si avrà un'ottima. Non ho imitivo di l'attività. Nostia si è spedare, non è un'ottima. Non ho imitivo di più, la stazione radio. Big Eye 6 richiediamo autorizzazione al decollo Big Eye 6 autorizzato al decollo dalla pista 4 CAD confermare il riformimento con KC-135 nel settore Bravo 6 Sniper Affermativo Big Eye 6 KC-135 nel settore, vi aspetta lì Big Eye 6 potete decollare Ha ricevuto CAD, decolliamo CAD ci muoviamo Ricevuto Big Eye V1, fatto V1, alzare il uso E acquistiamo l'unceta Co-pilota usa l'indicatore di bersaglio per trovare Kilo Juan Sultak Affermativo, li vedo Kilo Juan, qui Big Eye 6 Siete sul nostro TRP Ricevuto Big Eye 6 A terra abbiamo visibilità zero Dovrete guidarci fino al ripetitore Kilo, dovete andare a est Recognatore TAC, veicoli nemici in avvicinamento Allontanatevi dalla strada Negativo C'è una struttura a nord Falli entrare, co-pilota Sto passando vicino alla casa No, aspetta Il nemico si è fermato davanti alla casa Il nemico si è arrivato Tutto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Conferma il primo obiettivo all'interno. Copi nota, c'è una grossa pattuglia in avvicinamento. Kilo, fermi dove siete. Andiamo in posizione. Confermato Kilo One, non li vedono. Ricevuto Kilo One. Vi avvicinate alla caserma. Bersaglio all'interno. Entrate e ripulite Kilo One. Ricevuto B-Kai. Bersaglio all'interno. Bersaglio all'interno. Bersaglio all'interno. Bersaglio all'interno. Buonanissimi. Bersaglio all'interno. Comunicazione interna interrotta. La base è al buio. Raggiungiamo il secondo obiettivo. Ricevuto Kilo One. Kilo, andate a nord. Kilo One, alfanteria in avvicinamento. Rileviamo almeno sei bersagli. È troppo pericoloso. Fermi dove siete e occultatevi. Gesonazzo l'ha guidato l'attacco. Già. Venti gradi sotto zero. L'uomo di ghiaccio era nel suo habitat. Stati giù. Eccoli. Fermi. Fermi. via libera arrivano altri soldati raggiungete quel posto di guardia non muovetevi poca volontà